presentazione corso ciao saboi lab è un collettivo di registi di op datori e sceneggiatori marchigiani il corso film che nasce dalla collaborazione tra astral music academy e saboi lab presentazione la durata del corso è di 110 ore ed è composto di sei moduli questo per far sì che ogni iscritto possa scegliere di partecipare o al singolo modulo o all'intero corso i sei moduli prevedono ma allora lì c'è scritto sceneggiatura regie direzione della fotografia montaggio color correction e grading in realtà non c'è scritto niente e due laboratori dove allestiremo dei veri e propri set cinematografici grazie a questa struttura modulare siamo in grado di rispondere alle esigenze sia degli appassionati sia dei professionisti dovrebbe essere partito e niente sono lo stagista di saboi lab gli altri finalmente se ne sono andati a organizzare quel corso di astro e qualcosa e niente mi trattano male però devo dire che sono bravi andate al corso ciao mamma